Buongiorno a tutti, sono Paolo Biasci, presidente della FIMP, rappresento tutti i pediatri di famiglia italiani. Sono molto felice di questa opportunità che mi dà la cittadinanza attiva, di parlare ai cittadini, alle famiglie che sono poi il nostro quotidiano riferimento nell'attività professionale che svolgiamo. Emergenza coronavirus, se ne fa un gran parlare, e anche FIMP ha cercato di dare delle indicazioni in sintonia con quelle che sono state e sono, si aggiornano quotidianamente le circolari del Ministero della Salute con le indicazioni per tutti i cittadini italiani di comportamento e tutti gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale di cui ci onoriamo di far parte. Noi abbiamo subito pensato di parlare alle famiglie e proprio per questo negli giorni scorsi abbiamo redatto il Decalogo per le Famiglie che abbiamo pubblicato su tutti i nostri social, quindi approfitto per dire di seguirci su Twitter, su Instagram e soprattutto su Facebook dove abbiamo due pagine attive, una FIMP, Federazione Italiana Medici Pediatri e una FIMP, Prevenzione, che è particolarmente rivolta e dedicata ai messaggi per le famiglie. Il Decalogo per le Famiglie, come dicevo, informa su come ci si deve comportare, su quelle che sono le norme principali per prevenire un contagio e quindi tra queste è quello di non frequentare indiscriminatamente gli studi dei pediatri di famiglia e anche altri ambienti come il pronto soccorso, ma di rivolgersi prima tramite un contatto telefonico al proprio pediatra di famiglia. Per quanto riguarda la prevenzione individuale, le norme sono sempre quelle già dette e conosciute anche in altre circostanze come quelle di lavare le mani, di lavarsi le mani e ovviamente farle lavare ai bambini e ai piccoli, forse anche l'occasione per insegnarli un corretto lavaggio delle mani e in questi casi di non stare troppo a contatto e troppo in vicinanza delle altre persone e soprattutto quando potrebbero essere contagiate. Abbiamo ridato una scheda di triage telefonico, quindi le famiglie devono sapere, i genitori che quando chiamano il loro pediatra di famiglia gli verranno fatte delle domande che sono quelle per capire se innanzitutto se c'è un sospetto epidemiologico che è la cosa più importante, quindi se hanno soggiornato in zone a rischio oppure hanno avuto contatti con persone che hanno soggiornato in zone a rischio. Successivamente poi vengano chieste informazioni sullo stato di salute, sui sintomi e quindi sulla sintomatologia in atto e vengano date delle informazioni. Informazioni che molto spesso soprattutto in questo periodo esitano con un consiglio di terapie sintomatiche e dire se i sintomi sono di tipo simile influenzale, di rimanere a casa o se deve essere fatta a giudizio del medico una visita, questa deve essere programmata ad orario eccetera eccetera, quindi senza un accesso indiscriminato. Ultimo documento che mi faceva piacere presentare in questo breve video sono le precauzioni per l'accesso allo studio, perché abbiamo affisso, tutte queste locandiere sono affisse nei nostri studi, anche questa addirittura fuori dalla porta ai nostri studi, che sono precauzioni per l'accesso allo studio, per la sicurezza di tutti, si chiede di collaborare attenendosi ad alcune norme di comportamento, quindi preventivamente concordare telefonicamente la visita, non affollare la sala d'aspetto, meglio aspettare fuori e entrare uno o due, uno alla volta, tenere in braccio i bambini affinché non tocchino troppi oggetti nell'ambito dello studio e quindi meno attrezzature di studio tocca meglio è per una questione proprio di diminuzione del rischio di contagio. Queste sono le norme che noi abbiamo raccomandato alle famiglie, lo facciamo per assisterli meglio. Ultima cosa che mi piace sottolineare, abbiamo ulteriormente sollecitato a tutti i nostri colleghi di ampliare la ricezione delle telefonate nell'arco della giornata e addirittura ci sono iniziative che speriamo si sviluppino nei prossimi giorni anche di un ampliamento oltre gli orari convenzionali della disponibilità alla risposta specialmente sfinalizzata a dare informazioni quando ci sono dei sospetti di contagio da coronavirus. Vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro un buon proseguimento.